Musica 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 Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo match di giornata si affrontano i ragazzi dei Muscomiul di Capitano Paolo Fontana in casacca gialla da segnalare il ritorno due anni dopo della pelliccia forte o diciamo meno scarso dai mettiamola così dall'altra parte ci sono altri due fratelli i Sorrentini da Paradiso che va d'esterno traversa inizio di match subito emozionante con la traversa clamorosa là dentro schioppo la rete che sblocca il match lo sigla schioppo Pasano la regala allora può ripartire segna Felicia e ritorno al gol allora torneo San Nazaro 784 giorni dopo il gol di Felicia l'ho letto qui nelle mie statistiche stava scritto ancora poi Sorrentino anticipato da Paradiso Felicia bene col tacco per il fratello dall'altra parte che manovra dei Moscomiul e che gol 3 a 0 Paradiso doppietta per lui allora vincere il fratello il diagonale Paraviso poi sulla ribattuta Sorrento Gionna fa 3 a 1 la riapre non è preso Fala dentro Parisi lo scavetto salva sulla linea Brescia Fala dentro Pariziera tu per tu salta Paradiso Fala dentro Flaminio lo lascia lì arriva il tapin vincente di Schioppo porta il punteggio solo 4 a 2 calcio di punizione Mariettiello calcio alto si chiude qui il primo tempo punteggio di 4 a 2 in favore dei Moscomiul iniziato il secondo tempo della match tra i Moscomiul e i parametro 3.0 con i ragazzi di Paolo Fontana che sono in vantaggio per 4 reti a 2 i fratelli Sorrentino hanno provato a suonare la carica per i propri compagni ma la maggiore qualità dei gialli sta facendo la differenza fin qui si 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 squadra quadrata ben messa in campo capitano sempre attento agli aspetti tattici qui si concede anche la conclusione con la mancino Flaminio attento Paradiso riparte Paradiso 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 contro la rete di schioppo tripletta e golla della 6 a 2 le finte di Fasano che calcia Murato da Paradiso che la mette dentro poi Sorrentino che parata poi Sorrentino alla fine il pallone entra si interrompe la maledizione al terzo tentativo con Maritiello che fa 6 a 3 doppio età per lui Paradiso se ne va la porta vuota Paradiso il gollo del 7 a 3 a ril Penguin world growAmerica Whist 吗 ma au sa lUU s commitment la sud ım questo до